Buongiorno a tutti, conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezia, iniziamo da Ferralpisalo TV. Buongiorno mister, ci siamo, a Venezia serve solo la vittoria per continuare a sperare. Sì, sicuramente è così perché i numeri dicono questo, siamo arrivati alla penultima di campionato, quello che deve fare la squadra è quello che ha fatto, soprattutto nella seconda parte di stagione, cercare di fare il più possibile una gara simile a quella dell'ultima che abbiamo giocato contro il Brescia, e in linea di massima come ha fatto le ultime, ovviamente tenendo conto come sempre del valore dell'avversario, tenendo conto di tutte le situazioni che si creano all'interno della partita, cercando di mettere dentro tutto quello che abbiamo per fare ovviamente la miglior prestazione possibile. Da una parte c'è il miglior attacco della Serie B e dall'altra la seconda peggiore difesa, un po' dura. Il valore dell'avversario non è che lo scopriamo noi, Sì, ovviamente è una squadra che è in lotta piena per andare direttamente in Serie A senza passare dai play-off, quindi è logico che stiamo parlando di una squadra, una squadra forte ovviamente, con delle individualità importanti, con una grande organizzazione di gioco, quindi stiamo parlando di questo tipo di squadra, e naturalmente lo sappiamo e c'è grande rispetto verso degli avversari così importanti. Come ho detto prima, a noi tenendo conto di questo, dobbiamo cercare di fare la nostra miglior prestazione possibile per cercare di fare il risultato positivo. Chi è che marcherà Pongiampalo? Certamente è un attaccante di grande livello per la categoria, è uno che quest'anno si è confermato, è un attaccante molto abile dentro l'area di rigore, quindi questo lo sappiamo, ma al di là di Pongiampalo, poi come ho detto prima, ci sono anche altre individualità importanti, con un'organizzazione di gioco, però ripeto, noi dobbiamo fare la nostra partita, abbiamo già dimostrato che comunque ce la siamo sempre giocata con tutte le squadre, poi purtroppo l'unica cosa che ancora ci è mancato è il togliere magari quell'errore che condizioni il risultato finale all'interno comunque di una buona prestazione e fino all'ultimo dobbiamo provare a colmare questo gap che ci ha impedito di fare quel saltino in più ancora di qualità e domenica è un'occasione per provarci ancora. C'è qualche infortunato che recupera o sono tutti... No, saremo quelli di mercoledì escluso Ballestrero perché è stato squalificato. Quindi Martella non recupera? No. E nemmeno nessuno degli altri? No, saremo quelli di mercoledì meno Ballestrero perché è squalificato. Quindi rientra Pilati? Sì, Pilati adesso ha sistemato questa botta che ha preso col Cittadella quindi lui è disponibile. Buttice, lieve? Eh però sicuramente per domani non recupera perché è comunque un problema muscolare che è avvenuto la partita col Cittadella a fine del primo tempo quindi, ripeto, saremo quelli di mercoledì. Quanto rammarico è rimasto per quel pareggio col Brescia dato che si poteva portare a casa i tre punti? Sì, il rammarico è tanto perché, ripeto, la prestazione è stata, secondo me, di livello quindi c'è tanto rammarico però è passato perché poi c'è una partita subito, domani ripeto, una partita bella da giocare in uno stadio bello, con tanta gente quindi quello, il rammarico che c'è stato ovviamente nell'immediato dopo partita è passato e adesso c'è la carica giusta per andare a fare comunque questa partita che per un calciatore è sempre una partita bella da giocare emozionante, con tanta adrenalina addosso quindi sono sempre comunque belle partite da giocare E poi in questo caso lei negli spogliatoi ha ripreso i giocatori per il risultato finale, per la prestazione oppure si è complimentato per come No, i giocatori sono molto maturi quindi riconoscono loro quando c'è magari una prestazione di basso livello eccetera è abbastanza evidente che la prestazione i ragazzi l'hanno fatta quello che avevo chiesto che ci siamo detti prima della partita di metterci tutto quello che abbiamo dentro in termini di intensità di voglia di capabilità questo i giocatori l'hanno fatto credo che non ci siano dubbi su questo quindi questo obiettivo è stato raggiunto poi siamo anche consapevoli quello che ho detto prima che tante volte la partita pur avendo fatto una prestazione di livello ci è mancato quel qualcosina per per riuscire anche a portare a casa il risultato e coronare anche la prestazione come ho detto prima abbiamo ancora due partite per adesso pensiamo a quella di domenica dove dobbiamo cercare in tutti i modi fino all'ultimo di provare a superare anche questa cosa perché la squadra ha fatto secondo me in questo percorso nella seconda parte tanti miglioramenti e lo dicono i numeri che abbiamo fatto lo dicono le prestazioni abbiamo ancora una possibilità di poter migliorare anche questo aspetto e domenica ci proveremo in tutte le maniere la missione è parecchio difficile lei ha intravisto un po' di rassegnazione nella squadra in questi due giorni? no rassegnazione no perché ripeto quando c'è la consapevolezza che comunque stai facendo stai facendo tanto questa consapevolezza c'è è logico che fino adesso non è ancora bastato perché non è ancora bastato e quindi non c'è rassegnazione ma c'è la voglia fino all'ultimo di provarci durante il corso delle varie giornate lei ha scambiato spesso gli attaccanti per vari motivi secondo lei la coppia la mantia Dubiscas è magari quella più completa tra tutti? ma secondo me nell'arco di un anno ci sono i momenti ci sono i periodi ci sono gli infortuni ci sono le squalifiche e quindi la cosa migliore è riuscire a sfruttare il migliore momento di ogni attaccante in questo caso perché parliamo degli attaccanti ma in generale di tutti perché è impossibile ovviamente mantenere dieci mesi un rendimento elevato c'è sempre ripeto nell'arco di un periodo così lungo ci sono sempre i momenti e quindi abbiamo cercato comunque di alternarli per rispettare questi momenti poi c'è ha giocato con tanta continuità per esempio con Pagnon poi ha avuto un infortunio di un mese e mezzo quando rientri anche se hai recuperato da un punto di vista fisico poi hai bisogno sempre di un periodo per ritornare al clima della partita questo vale per tutti quanti quindi abbiamo cercato in maniera equilibrata di distribuire le forze le energie insomma faccio un passo indietro ancora sul derby per dire che probabilmente il complimento più bello gliel'ha fatto a fine partita Maran quando ha detto attenzione perché questa Feralpi non merita la classifica guardate i punti che ha fatto solo nel gerone di ritorno e vedete che è una squadra di livello che paga l'avvio è consapevole anche lui ma tra l'altro l'avevo vista giocare un po' di volte direttamente lì da Piacenza a lei il derby cosa ha lasciato di buono? Ha lasciato una squadra viva una squadra che ci crede una squadra che ha voglia di combattere una squadra che con dei limiti però ci sta mettendo tutto quello che ha dentro e quindi questo sono segnali migliori possibili che uno può avere naturalmente come ho detto c'è un po' di rammarico perché nonostante questo ancora il tutto non è bastato e abbiamo questa partita per continuare a fare quello che stiamo facendo ancora meglio all'andata siete stati voi a far soffrire il Venezia più che il Venezia a far soffrire voi sì poi come sempre nei campionati ci sono i momenti ci sono i momenti delle squadre come ho detto sia dei calciatori sia delle squadre quindi era un momento in cui noi eravamo in grande ripresa e abbiamo fatto una partita bella andando in vantaggio due volte contro come ho detto prima una squadra forte quindi era un momento così adesso è un altro momento noi ripeto siamo comunque in una buona condizione abbiamo voglia di giocare questa partita con tutte le nostre forze quindi ce la metteremo tutta c'è un giocatore che vede meglio di altri per domani? no in generale quelli che stanno bene sono ragazzi tutti che che hanno voglia che hanno la birra giusta in corpo per fare questa partita ci sono le facce giuste quindi ripeto sempre consapevoli ovviamente della forza dell'avversario però abbiamo tutti grande voglia di giocare questa partita e di ottenere il miglior risultato possibile grazie a tutti buon lavoro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti